Il titolo di Filippo ovviamente, le poesie che scriveva erano ovviamente malinconiche ma spesso accade ai condici, essere molto malinconici nel momento di riflessione privata e le scriveva e le ha scritte nell'ultimo periodo della sua vita quando in realtà era andata fuori dalle scene per la sua malattia di cuore coincisa con il suo maggiore successo dopo Filomena Vastorani e allora una di queste poesie è combattante, a dire come allora e lei ricorda i momenti del teatro, questi momenti che si chiude l'emozione di avere un critico, un giornalista in platea che in questo caso lei lo nomina proprio Simoni, il progetto della sera che emozione avete lui? e poi ricorda il teatro, il teatro, i loro atteggiamenti classici uno più così humoristico, più semplice l'altro invece sempre più duro ragazzo anziano, buon mattino l'ora è più bella, è l'ora che è passata e non ritorna, non ritorna mai è più bella, è l'ora che è l'ora che si è fuori d'oliva come la rosa E quant'anno avevamo solo il passato, sono in più sul telone e poi sarà, la gente attorno a me si estregna e dice brava, tutta che la gente vuoi lontano. E poi si tende a metà, che è la coppina, a faccia non guardate e guardate, c'è Simone, Rocco Riera, io pensavo che ha paura e fa brutta figura. E tutta la tua amice, e tutta la tua gente, che è sempre stonata, tutta la tua mente. E quant'anno avevamo solo il passato, sono in più sul telone e poi sarà, la gente attorno a me si estregna e dice brava, tutta che la gente vuoi lontano. E ora pensavo quando mi ha stipato, a Rosa per ricordare i miei libri. Io mi ha stipato, a Rosa per ricordare i miei libri.